Avevo presentato nello scorso mese di giugno una interrogazione in Consiglio regionale per conoscere come la Giunta regionale sarebbe intervenuta per valorizzare il settantesimo anno dal ritrovamento dei bronzi dorati di Pergola. L'assessore Pieroni si era impegnato proprio in Consiglio regionale rispondendo alla mia interrogazione a destinare delle risorse per l'esattezza 100.000 euro per valorizzare il museo dei bronzi di Pergola. Oggi queste risorse sono una realtà, al di là delle affermazioni di qualcuno che non credeva che queste risorse sarebbero arrivate, dicevo sono una realtà perché la Giunta regionale nei giorni scorsi ha deliberato di destinare questi 100.000 euro al museo di Pergola e credo che sia una grande occasione di valorizzazione non solo del museo di Pergola ma anche turistica del territorio perché Pergola insieme a Frontone, insieme a Fonte Avellana, insieme a Mondavio non sono solo siti culturali ma sono luoghi da visitare e quindi anche di sviluppo turistico. Naturalmente l'impegno è importante perché non solo Pergola ha avuto questo riconoscimento ma anche Urbino, le risorse destinate alla data per 1.100.000, Urbania per 350.000 euro per il Palazzo Ducale e Mondavio per 370.000 euro per la Rocca Roveresca.